Proprio una settimana prima di interessare i quartieri, una settimana prima venivano messi i manifesti per avvisare la gente che sarebbero passati La formazione dei due tanti ragazzi Esatto, e quindi dove erano passati, io li leggo solo un articolo del capitolato perché è inutile che resti là ad annoiare però questo mi sembra abbastanza Il capitolato da Paolo dice campagne di contatto domiciliare dell'utenza, domiciliare dell'utenza con distribuzione domiciliare di strumenti per gestione differenziale kit di separazione e riduzione domestica interna, kit di compostaggio domestico Che cosa vuol dire? Allora, questo per dirvi, quindi perché viene fatta, perché la gente deve andarsi a raccogliere, a prendere i kit nei comuni Incompleti Incompleti Ma il problema è che il contatto domiciliare avviene con tutte le persone Qui, personalmente, non ho ritirato i kit perché tanto io ce l'ho i miei bidoni, me la faccio già Ma poi vi voglio raccontare una faccezia, ma proprio a livello Allora, noi siamo abituati da anni che nei bidoni blu buttiamo la carta E in quelli gialli buttiamo la carta Adesso ci danno i sacchetti blu per la carta e gialli per la Oddio, quando ci saranno i bidoni definitivi non ci sarà Blu carta e giallo plastica adesso? Sì, esattamente Adesso ancora